Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi, noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il chidello, ci permettevi di restare seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua. Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai eppure non sei morto. E al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire. La 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 la... Grazie a tutti.